Ciao a tutti, vediamo come possiamo disattivare il filmato introduttivo che viene fatto partire ogni volta che lanciamo Warzone 2. È fastidioso, si può saltare, però parte. Allora, è molto facile, andiamo qua in alto su impostazioni, da qua andiamo su interfaccia e se scendiamo, vedete qua, salta filmato introduttivo. No, noi facciamo sì. Bom, ecco qua, fatto, è già salvato, possiamo uscire e da adesso sarà disattivato. Questo è quanto, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!